Stamattina è stato chiaro il fatto che non c'è pericolo sanitario per gli abitanti del Comune di Civitella del Tronto. Sì, è costante il monitoraggio che stiamo facendo sulla struttura. Questa mattina c'è anche una visita di consiglieri e assessori regionali per accertarsi di questa situazione con la collaborazione delle forze dell'Ordine e della Prefettura. Ci siamo regati qui. Tutto sommato, la situazione sanitaria è assolutamente sotto controllo. Come ci siamo sempre, sin dalle prime ore, premurati di sottolineare, questa struttura è in aperta campagna, molto distante del centro. Tra l'altro è impossibile avvicinarla perché chiunque arriva si deve fermare al cancello d'ingresso. Assolutamente. Infatti, se lo stavo dicendo, non c'è alcuna possibilità di contatto dei ragazzi che sono ospitati con l'esterno. Quindi, diciamo, dobbiamo gestire questa situazione, ma il messaggio che io voglio mandare è un messaggio di assoluta sicurezza e tranquillità per Civitella. Quindi, dal punto di vista sanitario, anche dal punto di vista turistico, mi piace dire che Civitella è assolutamente sicura. Tutte le attività osservano protocolli Covid rigorosissimi. I cittadini l'hanno capito? Ma devo dire che i cittadini sono normalmente, cioè giustamente, preoccupati per le notizie che sono uscite in questi giorni, ma con grande maturità stiamo gestendo anche questa vicenda e sono sicuramente fiduciosa sul fatto che venga gestita bene questa vicenda. L'importante è che si capisca e si faccia capire che i civitellesi sono al sicuro e Civitella è sicura per ospitare e accogliere i turisti. E lei, sindaco, come sta? Ma io sono provata da questa vicenda, perché sicuramente è una vicenda che non mi sarei aspettata di gestire in questi termini. Dopo tante emergenze. Dopo tante emergenze, in piena estate, però questo è il mio ruolo, sono qui e sono sempre a fianco della mia comunità.